Spotti, sei disposto a ritornare al centro storico? Con la coda mi dice di no. E ritorniamo al centro storico? No, per carità. E ora che dice? Tagliamo la corda. La signora dice che già siamo in sofferenza. Siamo già in sofferenza, perché lo sappiamo tutti, con la grande distribuzione, Amazon, il commercio. È finito? È finito. Quindi ritornare in piazza e ritornare indietro. Certo. Sì, ritornare in piazza a lei. Siete disposti? No, io rimango in mani qua. Qui? Benissimo, grazie. Niente, disposto a ritornare in piazza? No. Allora, vuoi ritornare in piazza tu? Andar via da qui? Io mi lascio ieri, non chiedere, a me non mi importa niente. Va bene. A me se dai lassù non mi importa, tanto... Tanto? Mi lascio tanto poco, perché sono innamorata, sino già agli 84 anni. Ah, c'è l'età mia. Allora, ci c'era uno di più. Io del 38. Io sono del 39. Con me Piero. Va bene. Con mio cognato. Ciao. Ciao. Stareste disposti a ritornare in piazza? No, non so se non c'è mai. A me non mi ha niente. Io, siccome sono uno spondista, per me va bene anche. Bene, va bene, grazie. Disposti a ritornare in piazza? No. Grazie. Prego. Disposti a ritornare in piazza? Per me è uguale. Ah, per te è uguale? Aspetta che mi specchio. Mi specchio. Oh, mi sono ripreso anch'io. Adesso andiamo. Disposti a ritornare in piazza? No. No. Che ti va fa? Ma fa di a fame meglio è qui? Lasciamo il mercato. Benissimo. Grazie. Disposti a ritornare in piazza? Eh, no. No, proprio no. No, no, proprio no, perché oramai qui il mercato è un posto, diciamo, favoloso. Perché avete il parcheggio qua giù. Questo è importante. Che è importante. Che poi vanno lì, vengono qui, ma poi vanno a comprare anche dentro al Tivota. E vanno a fare la spesa anche giù. Esatto. Avete i parcheggi qui intorno, quindi, eh? Sì, sì, sì. Questo mi è stato detto, ecco. Sì, 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 sì. Quindi, niente. Tutto a posto. Niente. Perfetto. Qui è tutto per sempre. Grazie. E niente. Arrivederci. È disposto ad andare a ritornare in piazza? No. No. Siete disposti a ritornare in piazza? No. No, perché che ti porta a fare adesso là su? Quando è finita il corridoio ti porta a su? Che ti ma fa là su? Eh, certo. Mangano gli abitanti. Eh. Non gli abitanti. Manca tutto. Sei d'accordo ad andare a ritornare su? No, no. No, no. Disposto a ritornare in piazza? No. Lei vede questa mascherina? No, non me la levo la mascherina perché stamattina è aumentata il covid. Ti hai visto? Ma che c'hai paura del covid? Ti devi far ruotare tuo marito tu. Senti una cosa, senti una cosa. Tu vuoi che rimanga qui nel mercato o torni in piazza? In piazza? Perché almeno c'è un po' di vita in piazza. E' tutto morto lassù. E beh, e tu ci porti questa gente? Lassù ce ne devi portare la gente a ritornare. Ma almeno il sabato c'è un po' di vita in piazza. Ma non c'è niente. Beh, ma questi non lavorano dopo. Ma Giorgio, come non lavorano? Non si vuole spostare niente da qui. Ma no? No. E allora... Ti attende che ti mena questi. Mi mena? Sì. Le vede su la mascherina. Fatte vedere un attimo. No, non le faccio vedere Giorgio. L'ho aumentato il covid stamattina. Ma sai, c'hai paura? Ma c'hai paura? C'hai paura? Non sono vaccinato. E manco io. Un vaccino. Ma si è visto che il macello, quello che sto... Sono andata a uno e ho detto guarda, dove mi sono fatto il vaccino stavo male a morire. Eh lo so, ma me l'hanno detto parecchi. E Giorgio... Per fortuna a casa nessuno è successo. Ma che veramente... Vabbè. Ritornate in piazza? Vuole ritornare in piazza? Nemmeno morta. Allora, forza Marianna. Basta, basta. Ecco, che ho un suo paretino a cuccia. Tu perché non sai quando da roba abbiamo buttato via in piazza. E perché? Perché non si vendiva niente. Non c'è il parcheggio. Allora abbiamo detto o c'è cambiamento o noi non ci vendiamo più. Adesso che è stato cambiato che va perfettamente. Vuole ritorno a su e io ho scritto un qualche parola non molto sentibile. Allora, io qui. Tu sei disposto a andare in piazza di nuovo? Ritornare in piazza? Io a frate, ma quando vengono a me io a un bar non dico niente. Allora, sei disposto a ritornare al centro storico? No. No, perché sei nato qui, mi hai detto. No, qui. E allora rimani qui. E rimani dove sei nato. Ciao. Scusa, disposto a ritornare in piazza? No. Disposti a ritornare in piazza? O qui? Volete rimanere qui? Per me è indifferente. Indifferente? Per me è indifferente. Va bene. Senta gli altri, senta. Sì, sì, ho sentito gli altri. Tutti vogliono rimanere qua. Il mercato deve rimanere assolutamente qui. Motivo? Motivo, stiamo comodi. Ci sono parcheggi e c'è un po' di gente che gira. In piazza non c'è nessuno. Non c'è parcheggi, non c'è niente. Dobbiamo rimanere assolutamente qui. Perfetto. Punto e a capo. Punto e a capo. Punto e a capo. Tu sei d'accordo a rimanere qui o andare in piazza? Ma qualche secondo secondo me inizierà a bagliare. Ecco. St'è incazzata. Disposta a rimanere qui o andare in piazza? Guardi, io le devo dire una cosa. Io lascerò il lavoro. faccio un'opinione. Però, va bene, però, un'opinione. Qui si sta bene? Per me qui va anche bene. Va benissimo. D'accordo? Per me. No, ma per tutti. Allora, qual è la tua opinione? Si spaventa. Ah, si spaventa? Si, paura. Allora, decano, decano dei commercianti, dei piazzisti, dei piazzari, come si chiama? Come si chiama? Ambulanti. Ambulanti. Commercio su aria pubblica. Su aria pubblica. Benissimo, io ho sentito tutti. Tutti quanti hanno detto no. Il mio pensiero vale quanto gli altri, anche di meno. Sono l'ultima ruota del carro. Il mio pensiero, l'ho espresso all'assessore, lo sa. Sono nettamente contrario. Si, e tutti mi hanno detto anche un'altra cosa. Che qui c'è più gente che in piazza. Assolutamente, si. La gente circola anche di più. E c'è il parcheggio qui di Ticotà. Poi la gente va lì e poi va anche dentro Ticotà. Anche altri parcheggi. Anche altri parcheggi intorno. Via di comunicazione, questa è interessante. Dal centro storico si viene giù. Uno può parcheggiare qui o trovare il posto qui intorno. E quindi va bene, perché cambiare. Assolutamente. E poi c'è un discorso che io faccio. Se una cosa riguarda le tasche, gli interessi delle persone, che sono vitali perché è il vostro lavoro, bisogna prima ascoltare loro o no. Avere delle belle idee che qualcuno tira fuori. Però sembra che non si sposti più niente. Però io l'ho dovuto fare. Bene, buon lavoro. Grazie.